Carissimi, buonasera! Siamo all'ultimo giorno del Festival Gastronomico di Phuket. Siamo a Sapan Inn. Siamo in questo favoloso posto. Il tempo non è così clemente, però il posto merita veramente. Andiamo a vedere cosa ci offre. Qua sono tutti i stand e i tavoli senza sedie, vedete? E poi ci sono anche i tavoli con le sedie. Qua c'è uno della Michelin che non è per il cambio gomme. C'è un bel po' di confusione, vediamo dopo. Porca satè, che sono il maiale, quello con queste cose. Andiamo a vedere di qua. Andiamo con i noodles al momento. Questa è la cucina del Patton Merlin. Andiamo qua. Questa è la cucina del Patton Merlin. Vedete il pallo. Il cane qua. Dall'altra parte... ...ma farlo ai frullati. Un attimo sotto. Al momento. Tutte le loro cose qua. Questa è quella del nuovo hotel Poquetra. Sto andando con hotel. Sto andando con hotel. Poi provo Lanatra. Questo è quello del Caneng. Tempura. Verdura e tempura. Torsi sul cuore. la verdura la uova la tukapkau questo è quello del pesce con le ragoste gamberi, granchi piastra dove li cuociono quello è è un bob dylan anche lui tailandese questo è il tempio io avevo già fatto un video per il tempietto che è molto molto carino capina dj capina dj origami caffè dolci da minare al caffè bello bevande con 6 kg di zucco questa roba seria anche piccante questa è blu elephant ragazzi la miglior cucina che c'è in thailandia blu elephant c'è il telefono che bello che bello quale pannocchio c'è il telefono 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 il telefono c'è il telefono c'è il telefono c'è il telefono l'immagine del phuket con i muritz con i muritz i muritz cioè glasius online motore Continuiamo il video con una ragazzina impressionante Che voce che ha questa ragazzina qua Sto arrivando la televisione Questa è qua Alcuni dei piatti della cucina Thai Tanto per darvi un'idea Non c'è qua nessuno a sentire questa ragazzina qua Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti